Mentre il naufrago che deve abbandonare definitivamente l'isola dei famosi è... Marco Senise Marco mi dispiace, complimenti a Ilora se anche tu salva e puoi continuare il tuo percorso in tema l'Orily a Playa Sgamada Marco Volevo ringraziare tutti, è stata un'esperienza meravigliosa però approfitto per tornare a casa e riposarmi un po' Grande, bravo